E quali informazioni è corretto e importante condividere con il medico? Allora in realtà dovremmo sentirci liberi di poter condividere tutte le nostre perplessità e i nostri dubbi con il nostro medico. In realtà quello che accade spesso nel colloquio medico-paziente è che arriviamo alla visita un po' agitati, spesso con un po' di ansia, di paura e noi sappiamo che quando si attiva il sistema limbico che è quello deputato a rilevare i pericoli nell'ambiente e a muovere le emozioni, la nostra neocortecia che è tutto il sistema più razionale che organizza le informazioni va un po' in tilt e quindi arrivare da un medico agitati, in preda all'ansia, la preoccupazione ci mette nella condizione di ricordare molto poco di quello che lui dice e a volte di uscire dalla visita e di renderci conto di non aver dato delle informazioni importanti che sapevamo che avremmo dovuto comunicare al medico ma che ci dimentichiamo per un blackout emotivo nel momento del colloquio. E quindi in questo caso che consigli? L'ideale è quello di riuscire ad arrivare ad una visita medica riuscendo a gestire un po' le proprie emozioni interne, quindi ci vuole un po' di consapevolezza dell'emozione e di gestione delle emozioni in maniera tale da poter arrivare lucidi alla visita. Non è così semplice. Spesso i parenti aiutano un sacco in questo però perché magari nella strada da casa all'ospedale piuttosto che nella sala d'aspetto svolgono un ruolo un po' di tranquillizzazione, di rassicurazione che spesso mette nella condizione di arrivare più preparati alla visita col medico. A volte i parenti dei pazienti fanno un ottimo lavoro, magari tengono traccia dei sintomi, delle cose importanti da dire oppure delle domande che devono fare al medico. Anche questo è importantissimo per sfruttare bene il tempo che si ha a disposizione col medico che spesso non è molto, quindi è importante usarlo bene.